Uno al Livorno del Vicenza che si allontana così dalle zone più difficili della classifica. Al quattordicesimo Tamburini porta in vantaggio i Biancorossi raggiunti da Protti alla sua undicesima rete stagionale. Il gol del successo è siglato da Moscardi, un gran tiro da fuori a cinque minuti dalla conclusione della gara.